Amiche e amici di Pachino Cam News come sempre benvenuti, oggi vi devo raccontare un fatto ingrescioso, vergognoso che soltanto l'amministrazione Bruno poteva mettere in atto. Ebbene ieri mentre era in atto lo sciopero dei ripetenti d'asti il sottoscritto stava distribuendo dei volantini, attenzione, dei volantini non commerciali ma dei volantini a fini sociali dove invitavo le persone a partecipare nel pomeriggio con la manifestazione Liberiamo Pachino. Ebbene è giunta una pattuglia della Polizia Municipale, manco fossi che so, un delinquente che mi ha chiamato, mi ha bloccato e mi ha fatto la multa verbale numero 1, dovrò pagare questa ammenda forse perché ho violato l'articolo in quanto stavo distribuendo dei volantini in violazione alle modalità dell'ordinanza numero 21 del 30 settembre 2014, quindi ordinanza messo in atto da questa amministrazione. Poi cosa strana che alla voce del comandante della Polizia Municipale è cancellato? Siamo senza comandante, questo non lo so. Bene quindi vi lascio con le immagini di quanto è successo ieri e di quanto messo in atto da questa amministrazione comunale che veramente non ne possiamo più. Vi lascio con le immagini. Mi stanno facendo la multa! Mi stanno facendo la multa! Perché sto facendo volantinaggio! a Polizia Municipale? Ma non è commerciale? Ma è normale sta cosa? Ma che c'è già? Ma non è che è in commerciale? Praticamente mi stanno multando perché ho fatto del volantinaggio, ma non è commerciale.